Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo nella zona industriale di Sesto Ulteriano, importantissima area commerciale alle porte di Milano, con diversi collegamenti e svincoli autostradali. La soluzione che vi proporremo oggi è un grande capannone dei primi anni Ottanta, con area uffici, spogliatoie e servizi e zona di carico e scarico e area di manovra. Il capannone fa parte di un complesso di capannoni a schiera. Il capannone ha un'autezza interna sotto trave di 6,40 m. Ricapitolando ciò che abbiamo proposto, si tratta di un grande capannone in zona industriale di Sesto Ulteriano. Potrete visionare questa soluzione nei nostri social, pagina Instagram, canale YouTube, sul nostro sito www.immobiliarefreedom.it, nelle nostre sedi San Giuliano Milanese in via Gorghiotto, San Donato Milanese in via Morandi 23 e in via Molinino delle Armi 5 a Milano. Vi aspettiamo per visionarlo insieme.